quello che a me interessa oggi è semplicemente mettere insieme quello che io personalmente ho imparato dalla mia esperienza dagli studi e metterlo al servizio di tanti professionisti e ci tengo a precisarlo anche molte volte in maniera del tutto volontaria senza neanche essere attribuiti che per me ha un valore enorme perché veramente dimostra l'impegno di alcuni professionisti nelle scienze motorie per supportare il movimento paralimpico si mettono a disposizione per allenare questi atleti che di fatto hanno bisogno di alcune accortezze quando si parla di preparazione fisica un'altra lacuna che spero di poter colmare con questa breve presentazione e questa non è una critica al sistema semplicemente una valutazione oggettiva di quello che è lo stato dell'educazione a livello delle scienze motorie in Italia molto viene fatto dal punto di vista clinico, fisiologico e patologico la patomeccanica del movimento con disabilità e quant'altro c'è del materiale a disposizione in Italia che è veramente fantastico io ho fatto riferimento a moltissime citazioni in queste slide che sono prese da corsi di educazione o manuali pubblicati in Italia quindi sicuramente e lo dico senza senza prova di essere contraddetto siamo all'avanguardia per quanto riguarda l'approccio scientifico al tra virgolette il problema disabilità che non è un problema è una come dice il termine stesso una limitazione le limitazioni sono si trovano sulla via presse scavalcate quello che voglio fare è portare più un aspetto leggermente un po' più pratico applicativo perché i professionisti possano trovare una forma di spunto su come intraprendere un programma di allenamento da forza sia no un programma di preparazione fisica vero e proprio per atleti che hanno disabilità quindi questa rappresentazione è un po' diversa da quelli che sono i canoni ai quali siamo abituati quando si parla di attività fisica motoria preventiva adattata è più basata su un aspetto veramente pratico e applicativo quindi incominciamo da questa definizione molto semplice pubblicata nel 2011 la classificazione degli sport paralimpici ha come obiettivo quello di promuovere la partecipazione allo sport per persone portatorie di handicap contenendo i limiti di una disabilità che può essere fisica, visiva e mentale quindi la parola chiave in questa slide ed è il motivo per il quale ho deciso di riproporla è il concetto di contenere allora ovviamente quando siamo di fronte al soggetto portatore di disabilità non andremo stasera nel dettaglio tecnico per vedere tutte quelle che sono le differenze fra diverse categorie perché sono sicuro che professionisti nel settore abbiano già avuto modo di conoscere questi concetti quello che conta è che un atleta con disabilità non ha un problema non ha un deficit, ha un limite, ha un limite di funzionalità che è psicologico o motorio, fisico o biomeccanico che sia il nostro compito come preparatore atletico è questo un messaggio che personalmente mi sento di citare quello che Alessandro Zerani ha detto quando si è svegliato in ospedale dopo l'incidente in Germania non si è concentrato su quello che si era perso si è concentrato su quello che è rimasto un preparatore atletico non deve concentrarsi quando lavora su un soggetto portatore di disabilità su quello che questo soggetto non può fare deve concentrarsi su quello che è rimasto e quello che si può fare dal punto di vista fisiologico, bioenergetico e biomeccanico e in questo senso si vogliono contenere i limiti di quella che può essere una disabilità più o meno grave e come sappiamo ci sono diversi livelli di disabilità che vanno da quella fisica, quella mentale, visiva, senso percettivo e quant'altro quindi concentriamoci su quello che un atleta può fare e non disperdiamoci in quello che un atleta non può fare concentriamoci su quello che si può lavorare un'altra citazione da Fabrizio Tacchino che è un tecnico con molta, 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 molta più esperienza di me in questo settore e al quale sicuramente ho fatto molto riferimento per la realizzazione di questo materiale chiamiamo disabili atleti che fanno i 50 all'ora in bici i 100 metri in 11 secondi e saltano in alto per 2 metri corrono la maratona corrono la maratona da non vedenti in 2 ore 35-35 minuti quindi lascio a voi valutare chi in realtà sia il vero disabile nella vita comune se noi pensiamo a quelle che sono le limitazioni fisiche alle quali i atleti con disabilità vanno incontro e i livelli di prestazione che ottengono nello sport quando andiamo a confrontarli con i cosiddetti atleti non modotati ci rendiamo conto di quanto sia possibile aumentare il potenziale motorio di questi soggetti portandoli a fare delle prestazioni che fino a qualche anno fa sarebbero state completamente impensabili se noi guardiamo oggi quelli che sono i record realizzati in ambito olimpico da alcuni atleti portatori di disabilità ci rendiamo conto come di fatto ci sia un marge di intervento che è enorme ed è su quello che voglio concentrare questa lezione su quello che possiamo fare per intervenire e migliorare il potenziale motorio di un atleta con disabilità per aumentare o migliorare la capacità sportiva e di conseguenza il risultato nello sport ma quello che a me preme veramente sottolineare è che un concetto che si applica agli atleti non modotati tanto quanto a quelli portatori di disabilità quello che facciamo per migliorare il potenziale motorio di questi atleti va ben al di là del semplice miglioramento della prestazione sportiva stiamo avendo un impatto su quella che è la qualità della vita il senso di autonomia il senso di autostima di questi soggetti che di fatto acquisiscono un livello di self esteem di confidenza in se stessi tramite lo sport che gli permette anche di scavalcare barriere psicologiche emotive e sociali che si possono trovare ad affrontare nel corso della vita di tutti i giorni giustamente non manca mai una referenza Alessandro Zanardi nel 2018 all'Aromen di Cervia Alessandro Zanardi ha concluso 3.8 km di nuoto 180 km di bicicletta e 42 km di corsa in 8 ore 26 minuti e 6 secondi stabilendo non soltanto un record mondiale per atleti disabili ma classificandosi al quinto posto assoluto entro più di 2000 partecipanti all'evento quindi vuol dire quinto posto assoluto realizzato da un atleta con disabilità in mezzo ad atleti considerati normali o normodotati quindi è importante considerare quelli che sono quello che realmente ha il potenziale di questi atleti e di questi soggetti che ovviamente hanno delle limitazioni ma quelle limitazioni non sono altro che una motivazione in più per impegnarsi a scavalcarle e ottenere risultati di rilievo in ambito sportivo Atleti che partecipano in discipline paralimpiche possono presentare una o più delle seguenti limitazioni fisiche e fisiologiche quindi è importante in questo contesto mi riferisco soprattutto ai professoristi nelle scienze motorie e il tipo di educazione che riceviamo nel contesto delle scienze motorie è importante inquadrare le limitazioni fisiche e fisiologiche a diversi livelli sotto diversi punti di vista c'è una componente biomeccanica che pertiene alla natura del movimento quindi al modo in cui il movimento viene eseguito e in quale modo si va a misurare l'efficienza di movimento in atleti con disabilità dal punto di vista fisiologico e sto parlando di qualcosa tanto semplice quanto la fisiologia della contrazione muscolare in soggetti con disabilità ma anche a limitazioni fisiologiche sistemiche come possono essere limitazioni cardiovascolari circolatorie, respiratorie o quant'altro ed è importante avere un certo bagaglio di conoscenze per poter interpretare queste limitazioni sapere quali sono i limiti entro i quali spingere e non spingere oltre perché giustamente non vogliamo come in ogni caso anche quando lavoriamo con atleti normodotati non vogliamo andare a a creare una situazione che possa essere dannosa o controproducente o andare a peggiorare delle condizioni preesistenti quindi è sempre importante avere una visione d'insieme per quanto riguarda l'entry level il livello di partenza di un atleta e questa è soltanto una lista di numerose limitazioni funzionali che possono presentarsi in maniera più o meno grave nei soggetti con disabilità partiamo dall'acicità completa o parziale andiamo all'ipotonia muscolare atassia atetosa limitazione funzionale muscolare amputazione e asimmetria tra arti o limitazioni entroprometriche quindi io personalmente come piccolissima esperienza personale ho avuto modo di lavorare con dei lanciatori del peso con diversi gradi di limitazione funzionale ma queste limitazioni si applicano a discipline sportive individuali di squadra discipline di sport potenza, velocità, resistenza, coordinazione quindi tutti i concetti che normalmente applichiamo alla preparazione atletica nell'ambito sportivo normodotato si applicano in maniera ugualmente importante anche ad atleti con disabilità entriamo un po' nel denso di quello che è l'approccio all'allenamento dell'allenamento della forza ma ancora una volta l'allenamento della forza è un concetto abbastanza limitativo stiamo parlando di preparazione fisica in generale dal punto di vista fisico un atleta diversamente abile ha necessità di migliorare tre aspetti coordinativi e condizionali che sono fondamentali per limitare le conseguenze di disabilità fisica quindi in primo luogo il primo obiettivo da tenere in mente è sempre aumentare i livelli di forza muscolare ed in modo particolare la forza della muscolatura del tronco e mi permetto di aggiungere la forza della muscolatura stabilizzatrice andremo a vedere nel dettaglio il perché l'enfasi a livello posturale e anche a livello statico quella che la letteratura molte volte viene definita come muscolatura fasica e tonica in questo caso ci concentriamo di più su quella tonica quindi quella posturale ha un ruolo fondamentale in preparazione atletica per atleti con disabilità il secondo punto sarà aumentare la capacità di escursione articolare sia a livello di mobilità che di stabilità ad end range questo è un concetto che è abbastanza nuovo nel panorama delle scienze motorie italiane quando parliamo di mobilità articolare di ROM di range of motion parliamo sì di stretching statico e dinamico parliamo sì di esercizi di mobilità articolare ma non dobbiamo dimenticarci che questi atleti si trovano poi ad eseguire gesti a range of motion quindi a range di escursione articolare particolarmente spinti in condizioni nelle quali devono essere in grado di generare adeguati livelli di forza quindi diventa una componente di mobilità che è molto più attiva di quanto non lo sia passiva mi permetto ancora di fare un piccolo esempio se guardiamo il modo in cui Zanardi entra e esce da una macchina da corsa adesso e ci rendiamo conto di che livello di coordinazione ma anche di stabilità articolare sia necessaria per potersi sollevare sulle braccia entra nell'abitacolo ci rendiamo conto di quanto la forza di fatto diventi ancora molto più delicata e abbia applicazioni ancora molto più specifiche nel contesto in cui andiamo ad eseguire movimenti che sono diversi da quelli che un atleta normodotato andrebbe ad eseguire e che quindi richiedono una certa stabilità specifica per range di escursione articolare specifici e l'ultimo obiettivo è aumentare i livelli di coordinazione generale integrando propriocezione equilibrio e coordinazione oculo-manuale ma anche oculo-podalica quindi se mi permettete la definizione direi che per antonomasia l'allenamento dell'atleta portatore di disabilità è un allenamento che deve essere pensato in ottica funzionale le limitazioni alle quali questi atleti si trovano a far fronte comportano degli adattamenti dal punto di vista biomeccanico quindi degli adattamenti che possono andare dalla semplice meccanica di passo di corsa alla meccanica di lancio alla meccanica di salto alla meccanica di locomozione con o senza l'uso di protesi o apparecchiature come può essere una carrozzina e queste esigenze li portano ad avere un livello di funzionalità complessiva superiore quindi devono essere in grado di eseguire gesti motori molte volte diversi da quelli che un atleta in modo trattato andrebbe ad eseguire e di conseguenza devono avere l'allenamento di un atleta portatore di disabilità deve essere veramente molticomprensivo deve essere in grado di coprire tutte queste aree in maniera integrata ma incominciamo in ordine quindi aumentare i livelli di forza muscolari in modo particolare la forza della muscolatura del tronco è un aspetto fondamentale nella preparazione fisica di un atleta paralimpico indipendentemente dal grado di limitazione funzionale la forza della muscolatura del core e della muscolatura stabilizzatrice oltre che di quella della muscolatura motoria e primaria è essenziale per migliorare la capacità di prestazione ma anche per aumentare l'efficienza del movimento ora abbiamo toccato in questa slide alcuni concetti veramente importanti e mi permetto di riassumerli in due parole anche perché non voglio poi entrare troppo nel tecnico per persone che sono ai primi passi in questo settore stiamo guardando normalmente quando affrontiamo l'argomento core o allenamento del core della muscolatura addominale in preparazione atletica abbiamo un approccio che è abbastanza limitativo e anche limitato a mio parere ci concentriamo sulla muscolatura addominale senza in realtà capire come la muscolatura del core di fatto sia un elemento di integrità strutturale per l'intero sistema muscolo scheletrico non ci concentriamo solamente sulla stabilità della zona lombare quindi la regione anteriore e posteriore dell'addome e laterale col muscolo trasverso dell'addome ma andiamo a contestualizzare questi muscoli in quella che è la muscolatura distale del tronco quindi se prendiamo come riferimento il core la muscolatura addominale ci sono delle fasce di connessione fisica tramite appunto il tessuto connettivo ma anche funzionale tramite quello che è il trasferimento di forze tra catene cinetiche diverse che si estende dalla muscolatura del core alla muscolatura del cingolo scapolo omerale e la muscolatura delle anche quindi gli estremi opposti del tronco e sono questi i muscoli che di fatto fungono da collegamento biomeccanico tra quella che è la stabilità addominale e la motricità degli arti quindi la capacità di muovere in maniera efficace gli arti superiori la capacità di muovere in maniera efficace gli arti inferiori soprattutto in condizioni nelle quali o uno o l'altro estremo di questa catena hanno delle limitazioni funzionali che possono essere dovute a mancanza di tonicità muscolare a simmetria tra gli arti mancanza di un arto diventa veramente importante capire come allenare un core stabile e forte con una stabile e forte connessione con gli arti sia veramente un concetto importante quindi andare ad inserire dell'allenamento di core strength o core stability per un atleta con disabilità non è soltanto importante è fondamentale necessario e deve essere fatto in un contesto nel quale le limitazioni funzionali vengono aggirate e ci si concentra su quella che è la motricità residua su quello che si può lavorare in termini integrato quindi sempre andare ad integrare esercizi di stabilità addominale con esercizi che coinvolgono gli arti superiori o gli arti inferiori che possono essere fatti in posizione di quadrupedia proni al suolo suppini al suolo quindi sono esercizi che possono essere fatti aggirando molteplici di quelle che sono le limitazioni funzionali di atleti con disabilità e oltre ad andare a concentrarci su quello che è il concetto di stabilità in senso stretto quindi stabilità posturale muscolatura posturale ovviamente c'è una certa importanza di quello che è anche l'allenamento della forza in senso canonico quindi andare a rafforzare quella che è la muscolatura motoria motoria primaria quindi la muscolatura degli arti inferiori ma anche la muscolatura del tronco in senso stretto quando si parla di movimenti rotatori o antirotatori scienzemotorie.com presenta la prima piattaforma professionale al mondo dedicata alle scienze motorie salute prevenzione rieducazione performance ricerca scientifica educazione mindset e molto altro raccolti in un unico progetto senza precedenti visita adesso il sito scienzemotorie.com i professionisti delle scienze motorie di unico progetto